Oggi Centralino parliamo di omosessuali, trans, queer e la comunità LGBTQ+. Sei pronto? No. Prima però, sigla! Io sono Bat e lui è il Centralino e insieme siamo Ressalzoni! Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo unboxing, come ho detto nella intro, unboxing, dove parleremo di questa comunità molto discussa, molto, diciamo, non lo so neanche come dire. Diciamo che è una cosa che divide molto l'opinione pubblica. Perfetto, questo è il modo giusto per definire. Quindi tutta la comunità del Pride, tutta la comunità trans. Se sbagliamo dei termini. Esatto, non siamo esperti in questo mondo, quindi alziamo le mani e prendete tutto quello che diciamo con le pinze, perché oggi abbiamo una scarpa che rappresenta questo tipo di cultura, questo tipo di comunità, questo tipo di categoria, stile di vita, esatto. E lo andiamo a vedere e andiamo a spiegare bene di cosa si tratta. Di conseguenza andiamo subito a vedere la scarpa senza perderci in chiacchiere. Prima però iscrivetevi, mettete like per non perdervi i prossimi video. Eccola qua, casca dal cielo una scatola di una Dunk SB che ormai conoscete bene. Classica. Esatto. All'interno, ecco, perché non l'hanno fatta tutta colorata? Questa ci stava. Ah, che ci stava. Che ci stava. Questa è la scarpa che vediamo oggi. Quindi la Dunk SB. Quanto pesa? È perché è un 45 e mezzo. Forse è che ci sono 18 lacci qua dentro. Anche, anche. Poi parleremo anche del corredo extra, di tutto quello che c'è in più nella scarpa. Questa, ragazzi, è la nuovissima Dunk SB Their Skateboards. Pro. Pro, pro. Ce lo devi mettere il pro. Dunk SB Pro Their Skateboards. Vediamo quindi subito i materiali, i colori, le particolarità che ha, i dettagli che ha questa scarpa e poi raccontiamo la sua storia e quello che rappresenta. Sui materiali non c'è tantissimo da dire. Nel senso, è tutto scamosciato. Una scarpa che dà i colori invernali, direi. Sì. Però il materiale è molto delicato e comunque è tutto questo camoscio che rischia di assorbire. I colori sono ovviamente il nero e questo verdastro, direi. Sì, verde scuro. Verde pino. Verde pino. Verde pino. Questi due colori ha contrasto con del bianco. Bianco strong. Perché il bianco poi lo diciamo dopo cosa rappresenta e cosa riporta. Ha detto questo, oltre allo scamosciato abbiamo lo swoosh in pelle e questa linguetta in tela. La linguetta qui. Sì, ovviamente la linguetta bombata classica da anche SB. Il centralino ha parlato di questi dettagli bianchi che troviamo sulla scarpa, che sembrano delle righe messe a caso. In realtà sono innanzitutto dei ricami bianchi. Voi magari non li riuscite a vedere, forse in una sovraimpressione si vede meglio il ricamo bianco di queste strisce. Cosa rappresentano? Rappresentano i quadri di Jeff Cheung. Bello preparato. Ho studiato. Io ragazzi studio sempre quando c'è un bel unboxing da fare, lo sapete. Jeff Cheung è un artista asiatico, omosessuale. Rappresenta nei suoi quadri appunto queste illustrazioni principalmente di corpi nudi che hanno affascinato tantissimo la scena artistica di New York. Ed è diventato appunto famoso per queste illustrazioni, queste opere. A te piacciono? Sincero non è il mio gusto. Sono un po' controverse, possono piacere, possono non piacere, sono sicuramente molto eccentriche e molto appariscenti. Senza dubbio se Nike ha creduto in questa collaborazione e ha posato la causa vuol dire comunque che è qualcosa di importante. Di conseguenza vediamo tutti questi dettagli della collaborazione e dove ritroviamo i disegni di Jeff Cheung. Come ho già detto quindi la tomaia è tutta piena di questi ricami bianchi che a tratti ricordano i suoi dipinti. Mentre possiamo trovare un disegnino qui sulla suola di colore nero, sulla suola appunto verde. Troviamo nell'etichetta della linguetta da una parte la scritta Nike SB mentre dall'altra invece troviamo un disegnino soprastante allo swoosh. E anche nelle etichette interne della scarpa troviamo sempre i disegni raffiguranti personaggi particolari sempre presi dai dipinti di Jeff Cheung. Anche ovviamente nelle solette interne troviamo questi riferimenti ai suoi dipinti e alle sue illustrazioni. Uno dei dettagli però più importanti è secondo me il passalaccio in metallo. Questo passalaccio in metallo che non troviamo su tantissime scarpe. Nike lo inserisce ogni tanto, non sempre. In questo caso troviamo nella scarpa che ho in mano io una figura di questo omino seduto a gambe all'aria con ovviamente nudo, con le chiappine al vento che si possono toccare. E in quella del centralino troviamo sempre un omino seduto secondo me con però le gambe piegate. Torcigliate. Sì, non si capisce benissimo perché comunque sono tutte illustrazioni molto ambigue, molto non rappresentanti chiaramente la realtà. Ovviamente questo passalaccio passa tra dei lacci. Sì. Laccio mixato verde e nero già montato sulla scarpa. Piace? Sì, mi piace. Mi piace questo laccio mixed. Ti aiuto perché qui ce ne sono un po' da far vedere. Gli extra lace sono cinque, quindi abbiamo un laccio montato più cinque, un totale di sei. I colori sono verde, nero, arancio e nero, grigio fumé e un arancio... Ah, grigio fumé. Grigio fumé. 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 Grigio fumo. Non grigio scuro, non ti piaceva grigio scuro. Grigio fumé. E un arancio fluo. Ho notato l'arancio perché ci sono due passalacci di ricambio, belli a contrasto, sempre delle stesse figure, però anche questi arancioni. E ti dico che secondo me verde, arancione e nero ci sta bene. Io quasi quasi monterei questo laccio qui, quello nero e arancio e i passalacci arancio. Arancio? Sì. Gli unici due lacci piatti sono chiaramente quelli bicolore, mentre tutti gli altri, diciamo, tinta unita, sono i classici lacci delle Dunk SB. Ultimo dettaglio di cui non abbiamo parlato è la scritta che troviamo qui sulla parte posteriore. Questa parte posteriore, quando ci sono le Dunk SB, è sempre un dettaglio dove vanno a lavorarci parecchio. In questo caso troviamo da una parte la scritta Nike, mentre dall'altra la scritta Verre. Questo sta a significare chiaramente il nome della scarpa Derr Skateboard e questo Derr Skateboard è un collettivo fondato da Jeff Chang, chiaramente, che si chiama Unity Derr Skateboard. Tutta questa comunità viene rappresentata da questo Derr Skateboard nel mondo dello skateboard. Quindi tutti gli skater trans, queer, che fino a prima dovevano nascondere questa loro identità per appunto andare in skateboard. Nel mondo dello skateboard, magari sono viste un po' così queste... Sono solo... Quando mi hai detto nascondere la propria identità sto pensando tipo a Batman. Vabbè, ma scusa, non puoi ridere centralino, cioè... Purtroppo, dicevo, esistono queste realtà dove c'è la discriminazione verso certe persone che vogliono esprimere la propria identità. Questa senza dubbio. Questo in tutto. E questo collettivo di persone rappresenta la comunità trans e queer nello skateboard per evitare appunto tali discriminazioni, più che altro per cercare di normalizzare, come posso dire... Non posso normalizzare una parola anche lì al borderline in questo caso. Per cercare... In questo caso è tutto borderline. Su questo discorso, raga, su questo ambito è tutto borderline quello che si dice. Per quello che alziamo le mani, raga... No, bisogna stare attenti con le parole perché non vorremmo... Fraintendere. Non vorremmo che ci siano fraintendimenti. Se avete capito, avete capito. Altrimenti andate a guardare il reel che ho postato dove lì ho fatto le cose in maniera seria. E quindi in quello lì spiego bene un po' tutta la storia. Adesso parliamo invece della cosa più importante. Ti piace? Perché la scarpa può rappresentare qualsiasi cosa, però poi deve piacere, può non piacere. Se non dovessi pensare a tutto il discorso della storia. Esatto. Ti piace? Allora, ancora ti dico una scarpa che non riesco a capire. Sono colori che stanno bene insieme ma non mi fanno impazzire. Quindi non so se la vestirai volentieri. Però riconosco che nel complesso è una bella scarpa. Con un significato anche. Voto? Ah, il mio voto sette. Ok. Sette perché potevano fare qualcosa in più sul box. Magari nel complesso i colori avrei dato qualcosina in meno, però ha tanti lacci, ha tanto significato. Ho visto che è stata super, ma super apprezzata dai nostri clienti o in generale da chi ci segue perché sono arrivati tantissimi ordini e non me l'aspettavo. Però c'è da dire che la Dunk SB penso sia in uno dei suoi momenti di punta e sta diventando, non dico commerciale, ma sta andando molto in voga. Cosa ne pensi te? Allora io parto con il voto. Secondo me è un sette e mezzo. Ammetto la mia ignoranza nel non sapere perché non vengono utilizzati dei colori che rappresentano appunto questa sorta di vita pride, quindi tutto è colorato, tutto è eccentrico, ma viene utilizzato questo pattern di colori molto scuro, cupo. E questa cosa non mi dispiace in realtà perché comunque la scarpa di per sé è bella e l'unica cosa che non mi piace sono le illustrazioni. A me non mi piacciono, cioè mi dispiace Jeff, scusa ma non mi piacciono le tue illustrazioni. Un po' troppo. Sono un po' troppo particolare in realtà, cioè comunque è una cosa che non mi fa impazzire e quindi sulla scarpa non mi fanno poi impazzire. Perché altrimenti fossero state rappresentazioni di disegni di un altro tipo che mi potevano interessare, tipo ad esempio la Futura hanno dei dipinti astratti che però a me piacciono molto e infatti me ne sono anche prese personal. Questa invece un po' meno. Però riconosco che il colore nero e verde sia molto bello assieme, quindi per me è un sette e mezzo. Posso aggiungere? E ah, ultimissima cosa, tutti questi lacci sono un plus, quindi forse il mezzo voto in più anche per quello. Il mio sette e mezzo va anche per quei sei lacci extra che sono qualcosa di folle. Posso aggiungere? Vai, aggiungi qualcosa. Mi è venuta in mente una cosa da dire, secondo me non è scontata, però questa può essere una scarpa che arriva ad un pubblico diverso da quello che solitamente acquista queste sneakers. Cioè la vedo più una sneakers da adulto, più una sneakers magari di una persona navigata in fascia più alta di età. Non so perché mi dà queste vibes qui. Detto questo raga, queste erano le Dunk SB Der Skateboard di Jeff Chang. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi e quale voto date voi a questa sneaker. Io direi che non abbiamo più niente da dire, questo video uscirà probabilmente un pelino in ritardo rispetto alla release di questa scarpa perché stiamo adottando la strategia di un video a settimana per tranquillizzare un attimo le acque e di conseguenza... Siamo quasi a settembre. Sì, rischiamo di essere quasi a settembre su questo video. Il video ragazzi termina qui dal bat. Il centralino. È tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo video.